Ancora bocconi avvelenati ritrovati nei parchi aretini in tutto 11, quelli che sarebbero stati ritrovati nella zona del parco della Marchionna. Sono stati subito avvisati i carabinieri forestali e le guardie zoofile di OIPA, ma nella zona poi non ci sono stati altri ritrovamenti, nonostante il pattugliamento effettuato dai carabinieri forestali con le unità cinofile. Le persone con ogni probabilità le hanno buttate. Ricordiamo alla popolazione di CeoIPA che le esche avvelenate non devono essere buttate e se è possibile vanno fotografate. Primo perché comunque potrebbero essere ancora pericolose e quindi ritrovate e ingerite e poi per capire di che cosa sono composte. La cosa immediatamente da fare è di avvisare i carabinieri forestali. Episodi comunque davvero frequenti e intanto il comune di Arezzo ha raddoppiato il nucleo operativo degli agenti di polizia municipale, la speciale divisione che si occupa proprio di contrastare il fenomeno del maltrattamento e dell'abbandono di animali. Dunque noi abbiamo raddoppiato il nucleo operativo degli agenti di polizia municipale. Da due adesso sono quattro, quindi anche loro sorvegliano per eventuali maltrattamenti e anche in questi casi. E poi abbiamo l'OIPA che sono le guardie zoofile che sono il nostro occhio vigile sul territorio. Purtroppo non possiamo prevedere quando queste persone, io li chiamo delinquenti perché fanno queste cose orribili, perché poi non sono pericolose soltanto per gli animali, ma possono essere pericolose anche per dei bambini, per delle persone. Mettiamo una mamma che in quel momento è un po' disattenta e il bambino prende questo boccone da terra. Posso immaginare quello che può accadere.